Giorno 2, le misse si stanno cambiando, abbiamo provato ad entrare ma ovviamente non ci hanno fatto entrare. Buongiorno, tutto bene? Buongiorno. Cosa ti hanno fatto fare? Ti hanno fatto parlare della mia vita, basta, si si si. Te sei Miss? Miss Cinema, di Monte Valle d'Aosta. Mi hanno fatto fare un sorriso, un'espressione seria e basta. Un'espressione seria com'è? Un'espressione seria. Questa qui sembra più neutra. Così? Tipo, penso a una cosa seria, ecco esatto, l'espressione seria. Può vedere? Voi siete Miss? Miss Miluna, Miss Rocchetto, Piemonte Valle d'Aosta. Aspetta che stai solo con noi, ti prego. Dai dai, incrociate le dita. Incrociamo. Buongiorno. 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 Come va? Bene. Siete tese? Abbastanza. Dovete prepararvi le facce perché vi chiedono la faccia seria, la faccia sorridente. I vestiti ve li scegliete da voi? Ve li avete portati da casa? Sì, insomma, il mio vestito preferito. Bocca al lupo, ragazze. Visto voi. La tensione palpabile. Un pietrite. Fabrizio Rizzi, gli attendi per le prime prove di eliminazione. Quando siete arrivate? Ieri. Con il treno. Con il treno? Ma da sole non vi siete fatte accompagnare da nessuno? Io sì. Chi ti ha accompagnato? Il mio ragazzo. Il tuo ragazzo. E dove è stato il tuo ragazzo questo? Sì, è tornato. È tornato. Io sono stato mandato a fare questo servizio per rompere le scatole alle misse. La mia ragazza è tanto contenta. E mi ha chiesto come sono le misse. Salutate Irene. Ciao Irene. È del pronto intervento trucco? Sì, sì bene. Allora, Cecilia Perotti. Ecco là. Punto Giallo, grazie. Mi raccontaci sulla verità che era di sempre. Nella vita studio, studiando le scienze pedagogiche. E ogni tanto mi capita di lavorare come hostess. Però come si? No. Megalini? Non lo so. Non lo so. Mai. Pur. Ma adesso Ruiz è arrivata nel primo piano. Sì, 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 certo. Dopo la selezione le ragazze vanno a farsi le foto in costume da bagno. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.